Mamma, mamma, eccoci qua, tutti all'arrembaggio. Ah sì, aspetta, tutti, tutti da papà, non so più cosa fare, uno scapa. Oh mamma, Fibi, cosa devo fare? Cosa devo fare? Eh, caratterino, eh, quella lì. Ah sì, c'è Fibi che cerca di spiegagliare. Tutti intorno a papà Axel. Papà Axel non sa più cosa fare, non sa più cosa fare, aiuto, cosa gli dico a tutti questi bimbi? Fibi, aiutami. Ma no, ma che ce la faccio? Ma va che lì di bello. E zio, lascia stare papà. Giochiamo tutti con papà, giochiamo tutti con papà. Buongiorno a tutti da Cuccioli Allevamenti.